video senza tagli perché si oltretutto sto in un bagno sto al lavoro però ragazzi ci vediamo stasera stasera per la prima semifinale dei eurovision son contesti live su this is evil qua sotto il link mi raccomando io vi invito a venire stasera ridiamo sulla prima semifinale poi vi invito anche a rimanere sintonizzati perché il 12 e il 14 sempre la sera ci sarà sempre la reaction eurovision son contest sì ogni anno sarà così sappiate a meno che un anno non vada alle eurovision ma dubbio ci vediamo stasera ok va bene tremo come una foglia perché non ce la faccio più ok va bene ci vediamo stasera